Salve ragazzi, come va? Qua con voi eri pugnosi in Lion Bull Academy. Oggi cominciamo una nuova sezione del canale, sono podcast mattutini del mercato. Sarebbe di come l'analisi settimanale, però lo facciamo giorno a giorno. Penso che sarà più interessante per tutti, trader e inversori, per un po' farvi vedere come si sta muovendo il mercato e cosa aspettarci il giorno di oggi. Lo faremo tutto in temporalità di 30 minuti, levando qualche attivo che scelgo io personalmente, che mi piace fare trading, sarà in un'temporalità di un giorno, però il resto sarà tutto in 30 minuti. Cominciamo con gli indici americani, perché ricordate io soltanto opero indici americani, è il mio interesse. Cominciamo con il Dow Jones, che potrebbe salire intorno all'1,44%. Finché siamo al di sopra dei 35.040 cercheremo possibili compre, con il primo obiettivo in 35.500 e il secondo obiettivo in 35.780. Se per il contrario rompiamo al di sotto i 35.040, cercheremo possibili vendite con il primo target 34.800 e il secondo target 34.590. Ricordate che oggi siamo a giovedì 23 novembre 2023. Sarebbe a dire che Thanksgiving Today, oggi, scusate parlo anche in inglese, oggi il mercato è chiuso, domani sarà aperto soltanto mezza giornata, perciò è una settimana abbastanza tranquilla in comparazione con altre settimane. che lo teniate in conto. Continuiamo con il Nasdaq 100. Il Nasdaq 100 potrebbe salire intorno al 1,50%. L'analisi è di ieri, novembre 22-2023, che ce lo dice il Trading Central. Ricordate che fate le vostre proprie analisi. Questo è più che altro una guida alle possibilità che potrebbe muoversi il mercato, i possibili prezzi che potrebbe toccare. Avete sempre la vostra strategia e il vostro analisi personale. Io soltanto, è una guida semplice da seguire e per usarla per imparare e per darvi un aiuto più che altro. Dai, finché siamo all'isopera dei 15.870, cercheremo possibili di comprare. Primo obiettivo 16.126, con l'obiettivo 16.250. Se per il contrario rompiamo al di sotto i 15.870, cercheremo possibili vendite, con il primo obiettivo in 15.750, secondo obiettivo in 15.530. Continuiamo adesso con l'SP500. L'SP500 potrebbe salire intorno al 0,92%. Finché siamo all'isopera dei 4.525, cercheremo comprare. Primo obiettivo 4.575, secondo obiettivo 4.600. Se per il contrario rompiamo al di sotto i 4.525. Cercheremo vendite, primo obiettivo 4.487, secondo obiettivo 4.458. Continuiamo adesso con il Forex, vi faccio vedere quelli più importanti, euro-dollaro, libra sterlina contro il dollaro, penso quelli più utilizzati. Andiamo a vedere cosa ci dice e abbiamo l'analisi di oggi, novembre 23. potrebbe salire intorno a 33.53 pips. Finché siamo al di sopra del 1.0880, cercheremo comprare. Primo obiettivo 1.0940, secondo obiettivo 1.0960. Se per il contrario rompiamo al di sotto l'1.0880, cercheremo vendite. Primo obiettivo 1.0870, secondo obiettivo 1.0850. Continuiamo adesso con la libra sterlina verso il dollaro, che anche lui potrebbe salire intorno a 12.32 pips. Finché siamo al di sopra dell'1.2475, cercheremo comprare. Primo obiettivo 1.2530, secondo obiettivo 1.2550. Se per il contrario rompiamo al di sotto del 1.2475, cercheremo vendite. Primo obiettivo 1.2450, secondo obiettivo 1.2430. Continuiamo adesso con l'oro e gold oro, potrebbe cadere intorno al 0.57%. Finché siamo al di sotto del 1.998, cercheremo vendite. Primo obiettivo 1.988, secondo obiettivo 1.9883. Se per il contrario rompiamo al di sopra il 1.998, cercheremo comprare. Primo obiettivo 2.007, secondo obiettivo 2.014. Continuiamo con il petrolio e il petrolio potrebbe cadere intorno all'1.29%. Finché siamo al di sotto di 77.10, cercheremo vendite. Primo obiettivo 75.80, siamo quasi lì lì. Secondo obiettivo 75.10. Se per il contrario rompiamo al di sopra di 77.10, cercheremo comprare. Primo obiettivo 77.90, secondo obiettivo 78.45. E come ultimo andiamo a vedere Bitcoin. Bitcoin. E i due cripto, Bitcoin e Ethereum, andremo a vedere. Bitcoin. Anche di oggi, scusate, in 30 minuti. Finché siamo al di sopra dei 36.940, cercheremo comprare. Primo obiettivo 38.000, secondo obiettivo 38.310. Se per il contrario rompiamo al di sotto i 36.940, cercheremo vendite. Primo obiettivo 36.410, secondo obiettivo 36.090. Ah, ho parlato troppo. E come ultimo ci abbiamo Ethereum. L'Ethereum anche lui potrebbe salire intorno al 3%. Ficché siamo al di sopra dei 2038, cercheremo comprare. Primo obiettivo 2170, secondo obiettivo 2.126. Se per il contrario rompiamo al di sotto i 2038, cercheremo vendite. Primo obiettivo 2005, secondo obiettivo 1985. Dai, questo è stato tutto per oggi. Se vi piace il video, ricordate se c'è il bottone like. Qualsiasi dubbio me lo commentate sotto nei commentari. E non ricordate di susscrivervi al canale. Molte grazie e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.